Musica 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 Ah perchè c'è da dire guarda perciò non pide Musica In allegato il modulo di autorizzazione procede per il paziente William Hope affinché venga inserito nel programma di psichiatria caritatevole della Murkoff e ricoverato nell'ospedale di Mount Massive, colorato USA. Si tratta di un modulo standard e contiene tutte le firme necessarie. Sembra che Billy ignora il recente arresto radio pilotato da sua madre. Si sottomette alla sperimentazione con la convinzione infondata che la madre otterrà dei soldi e verrà fatta una donazione alla sua chiesa. Dopo aver letto i rapporti sui sogni del ragazzo Wemmy che ritiene che possiede un enorme potenziale terapia. Questa è un po' di più. Uuuuuh, basta qui Che è successo? Immagino che adesso io debba scendere giù di qui Mi ha sovriso così, non sono mai andato Ma non spegni sta pazzo di lui Vado dietro l'assolido Non provano all'interno Non provano all'interno Tu devi essere andato Non provano a noi Non provano a ciò che Sì, sì. 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 Caricamento anche coinfinito. Sì.